Gamba indietro, testa avanti. Prima, cambio mano, mano in mezzo alle gambe qua, pancia delo, seconda, poi tolgo la mano, sposto il braccio, vado a cavallo, così, terzo, mi sollevo un po' perché sono comunque sopra, sposto il braccio, quindi qua il braccio è incrociato, terza, sono sceso da cavallo, quarta, vicino alla testa, in ginocchio.